Lui ci suona, ci invia la missione alla centrale operativa, quindi il tablet suona. E qui dentro si trovano tutte le specifiche. Un'app su tutti i mezzi di soccorso per coordinare le operazioni del 118. Da oggi è completamente operativa anche alla centrale di Arezzo e si va così a completare l'informatizzazione in tutta l'asla toscana sud-est. Ci arriva un messaggio con una sirena che ci dice che c'è questo intervento dove dobbiamo andare, dove ci sono tutte le informazioni basilare che l'utente ha dato al 118 e quindi le prime informazioni che abbiamo noi. Dopodiché noi possiamo, una volta che siamo a contatto con il paziente, inserire tutte le ulteriori informazioni di cui c'è necessità. Tutti i mezzi, sia quelli diretti asla che quelli in convenzione delle associazioni di volontariato, troveranno da oggi su speciali tablet una nuova app che consenta a ciascuna postazione la ricezione di allarmi, il monitoraggio di tutte le fasi, l'invio alla centrale dei dati anagrafici clinici del paziente e la redazione di una cartella clinica informatizzata. Ha la funzione sostanzialmente di rendicontare nella maniera più adeguata, di geolocalizzare le ambulanze, i mezzi di soccorso rispetto alla necessità di un intervento, quindi far intervenire sul paziente il mezzo che per tempistica e per risorsa è più adeguato, nel minor tempo possibile, nonché di saper rendicontare perfettamente al pronto soccorso di destinazione le condizioni e ciò che è stato fatto sul territorio.